E' sempre più d'attualità il tema delle truffe ai danni dei cittadini, finti operatori o tecnici dell'acquedotto che tentano di introdursi nelle abitazioni con la scusa di intervenire sul contatore. A farne le spese sono soprattutto le persone anziane. Per questo Pavia Acque ha adottato negli anni alcune misure per contrastare il fenomeno. Sono sempre più diffuse nel nostro territorio i tentativi di truffa danno degli utenti. Le persone anziane e le sole sono indubbiamente le più colpite. Purtroppo nel nostro territorio sono all'ordine del giorno episodi di tentativi di truffa da parte di falsi letturisti o falsi tecnici dell'acquedotto che si introducono nelle case dei cittadini con la scusa di voler fare una lettura del contatore per un guasto al contatore. Per far fronte a questa preoccupante situazione Pavia Acque ha messo in pista tutta una serie di azioni. Ha attivato nel 2019 con la collaborazione dell'Arba dei Carabinieri un numero dedicato che consente a ogni cittadino di verificare se il tecnico che bussa alle proprie porte è veramente un tecnico di Pavia Acque. Ha reso chiaramente visibili e identificabili gli operatori di Pavia Acque tramite dei tesserini e una divisa. Pavia Acque ha promosso una campagna di raccolta recapiti telefonici o mail per essere preavvisati del passaggio del letturista. Pavia Acque infatti prevede sempre il contatto con l'utente per prendere l'appuntamento prima di recarsi a fare l'intervento. Da questo punto di vista ricordo a tutti che è molto utile che l'utente lasci un proprio contatto preferenziale che sia telefonico o via mail per essere preavvisato. Infatti anche la bolletta Smart prevede all'interno una sezione apposita che consente di aggiornare i propri contatti. Il numero antitruffolo 0383 194 0114 utilizzabile da lunedì al sabato grazie ad un call center attivo dalle 8 alle 20. Risponde un operatore del call center di Pavia Acque dove può verificare in base alle segnalazioni fatte dall'utente se nella zona sono in previsione le letture dei contatori, se è stato emesso un ordine di intervento sulla fornitura e può controllare il numero identificativo del tesserino che è in possesso dell'operatore con l'elenco e i nominativi in suo possesso. Gli operatori e gli incaricati di Pavia Acque e tutti sono infatti dotati di questo tesserino di riconoscimento. Ogni intervento è inoltre accompagnato da un ordine cartaceo o dell'elettronico. Dove l'utente può verificarlo sia controllando la propria bolletta oppure telefonando al numero antitruffa. Che cosa succede dunque in presenza di un possibile caso sospetto? L'operatore del call center in accordo con l'arma dei carabinieri telefona immediatamente alla centrale operativa che a sua volta contatterà l'utente e si recherà sul posto a verificare la situazione. A questo punto risulta molto importante per chi non lo avesse già fatto comunicarci i dati di contatto oppure l'indirizzo di posta elettronica così da poter essere contattati precedentemente prima dell'arrivo del tecnico.